Anzitutto non sto molto bene, perché lunedì ho fatto visite e abbiamo visto che c'è la pupaggia, sono tanto infiammato e ieri mi sono allenato, però con male. Oggi dobbiamo parlare. Già che soffro tre mesi di questa cosa, solo che l'ultimo mese e mezzo mi è venuto un po' troppo forte. Durante questa settimana parlo con mister, anche con il conduttore, vediamo come sto e cosa decide mister. Io sono sicuramente sempre pronto a dare massimo, anche fino adesso ho giocato con male, però riuscivo a fare tutto, tutto per la squadra sicuramente. Perché in questo momento penso che la squadra ha bisogno di tutti noi. Devo abituarmi un po' in questi ritmi che sono in Serie A, sono veramente alti. Io fino adesso ho fatto tutto, sto dando tutto al massimo. Ce l'ho un po' male, però sempre darò un massimo per questa squadra sicuramente. Vediamo come andrà questa cosa. Sicuramente ognuno di noi deve migliorare e deve sapere i suoi punti deboli. Anche io lo so tutte le mie cose migliori, anche quelle che devo migliorare. Sicuramente un giocatore quando gioca può migliorare sicuramente. Io fino adesso ho fatto fatica in questi ultimi due o tre anni, questo è il primo anno che ho giocato così tanto. Anche io piano piano sto migliorando sicuramente. ogni punto di vista. Sicuramente mancano ancora tante partite. Peccato perché in queste due partite che erano contro Chievo e Cagliari erano troppo importanti per noi. Purtroppo contro Chievo abbiamo perso, contro Cagliari abbiamo pareggiato. Secondo me è stato un risultato molto positivo perché finalmente noi abbiamo preso il gol. Sicuramente partiamo di qualcosa di positivo e mancano ancora tante partite. Non è un momento sicuramente facile, però per noi salvezza come scudetto sicuramente. Se riusciamo a salvarci come... Grazie. Grazie.